In staccata arriva a fondamentale, arriva passato Giotto, poi il ritorno di Heitken che all'interno finge e poi lo allarga troppo. Qui Giotto prova ad attaccarlo, attenzione ancora al cambio di traiettoria e qui BOOM! E qua è Heitken che lo porta fuori. Perché Heitken è andato a toccare, era tutti e due sulla parte più esterna. Heitken, quando ha perso l'anteriore andando sulla pick up, ha iniziato a vedere tantissimo sottostelto, invece di mollare, ha tenuto giù e ha toccato poi l'avventura aiutata dietro. L'inquadratura all'interno non ha aiuta tanto, per vedere quella stessa. C'è stato un doppio contatto tra i due, tra l'altro. Brutto incidente.